Stella Azzurra che riprende ancora il pallone va in contropiato, attenzione con Boffa solo davanti al portiere, non sbaglia Boffa la mette all'incrocio dei pali ma davvero troppo larghe le maglie della difesa del number nine anche in questo caso Boffa uno dei migliori in campo, va a timbrare la prima in campionato per il 4-0 della Stella Azzurra